Porto Vittoria a stupirsi vedendo il mondo. Francesca Fioretti, a più di un anno dalla tragica scomparsa del compagno Davide Astori, continua a viaggiare, passione che condivideva con il calciatore della Fiorentina. Lei è la sua bimba di tre anni, prima sono state ad Istanbul e ora si trovano a Petra in Giordania. Viaggiare con i bimbi è possibile, scrive Francesca, e i limiti li poniamo solo noi. La bella napoletana torna a sorridere grazie alla sua bimba e alle sensazioni meravigliose provate in viaggio. Grazie per la visione!